Chloé è sempre un'eccellente fonte di ispirazione. Nuru, Dusu, unitevi! Kiki, trasformali! Anche noi siamo equipaggiati. Lati charm! Abbiamo poco tempo. Mi servirà il tuo aiuto per salvare Channuara e Chloe. Io? Aiutare te? Zoe Lee, questo è il Miraculous dell'Ape, che ti dona il potere di mobilizzare i tuoi avversari. Dovrai usarlo per il bene superiore. Al tuo servizio, mia regina. Ma Chloe si infurierà! È sempre stata lei, Queen Bee! Ma non saprà mai che sei tu. A differenza sua, tu terrai segreta la tua identità e a missione completata dovrai restituirmi il Miraculous. Non posso farlo, non sono abbastanza forte, io... Lo so che ci riuscirai. Devi dire solo una cosa, mia regina. Pollen, trasformami! Pollen, trasformami! Simeone, vuoi batterti contro qualcuno della tua stazza? Venom! Niente più malefatti, piccola piuma. Ladybug, sconfiggio il male! Fresa! Ciao, ciao, farfallina! Ciao, piccola piuma! Miraculous Ladybug! Ben fatto! Ti odio, Ladybug! E tu, Vesperia, sei solo una versione fasulla di Queen Bee! Devi imparare a controllare la tua rabbia, Chloe! Se vuoi, conosco un modo per aiutarti. Io non voglio niente da te! Tu per me non esisti! Sei la Lady del nulla!